Si è conclusa con 13 voti favorevoli e 7 contrari la lunghissima seduta del Consiglio regionale che ha portato all'approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021. Si tratta in assoluto della seduta più lunga e articolata di tutta la storia della Regione Molise. Sette giorni di lavoro, tre leggi approvate, oltre al documento di economia e finanza regionale, 14 atti di indirizzo votati tra mozioni e ordini del giorno, oltre 100 emendamenti discussi, tra cui alcuni votati all'unanimità. Poco meno di 3 miliardi di euro l'importo complessivo della manovra. Questi numeri nella loro asciutta rappresentazione matematica. In realtà la sessione di bilancio è stata caratterizzata da forti contrapposizioni tra maggioranza e opposizioni. Un muro contro muro aspro e spigoloso che solo a metà del cammino settimanale ha recuperato la necessaria serenità sfociata in un maxi emendamento che ha recepito le istanze concordate tra gli schieramenti in consiglio regionale. In particolare la critica delle opposizioni si è concentrata su tre fattori, la spesa sociale, l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico e la pressione fiscale. Ad un primo maxi emendamento ritirato ne è seguito un secondo all'interno del quale sono stati introdotti alcuni correttivi. In particolare la spesa destinata al sociale è aumentata di 500 mila euro destinati tra le altre cose con 90 mila euro in tre anni alla lotta e alla prevenzione della violenza di genere così come sollecitato in uno specifico emendamento da tutte le consigliere presenti nell'assise regionale. Sul fronte dell'aumento del costo del trasporto regionale da parte della maggioranza si contrappone il taglio delle risorse nazionali circa 2 milioni di euro da colmare ed il mancato adeguamento ultra decennale delle tariffe. Resta però sullo sfondo un sistema di trasporti specie nella tratta ferroviaria Campobasso Roma i cui disservizi nell'arco dell'anno occupano costantemente ampi spazi in cronaca l'ultimo episodio soltanto ieri. Sul fronte della pressione fiscale Andrea Di Lucente presidente della prima commissione quella competente per il bilancio ha sottolineato la decisione di non aumentare le imposte regionali come ormai da prassi la voce più grossa all'interno del bilancio regionale è quella relativa alla spesa sanitaria che con oltre 700 milioni di euro all'anno copre i due terzi del bilancio annuale. Tra gli impegni da segnalare raggruppati del maxi emendamento poi votato all'unanimità ci sono 200 mila euro a favore dell'esodo degli operatori della formazione professionale 500 mila euro in favore dei piccoli comuni 385 mila per il diritto allo studio universitario il raddoppio da 200 a 400 mila euro destinati al fondo per la non autosufficienza adesso dai numeri bisognerà passare ai fatti soprattutto nei settori dello sviluppo e della crescita occupazionale con parti nei quali la strada si presenta dura e decisamente in salita avendo sullo sfondo le crisi industriali ultra decennali che affliggono il molise